Ecco, passaggio filtrante, Tei di Mata, calcio di rigore, calcio di rigore a favore della Virtus Castelfrentano, atterrato Tei di Mata dentro l'aria. Manuè, tutto mezzo tuo, quando è così, taglia, fa la sovrapposizione, se abbiamo lo sbocco vai, se no puoi andare a giocare anche con Lorenzo, intelligentemente. Rete, rete, rete di Gianluca sorribattuta del portiere, il portiere c'era arrivato, aveva intuito e aveva respinto il pallone, ma è stato subito lesto Gianluca a rimettere a rete. 6 a 0, tripletta anche per Gianluca Malbone, tripletta.